Benvenuti a missione lucciole, la foresta affegnante. La condizione di questa missione è che le lucciole spawnano solo riscricamente quando è sera o comunque quando il tramonto, quindi se andate di giorno sapete che non le trovate, quindi dovesse scendere la foresta proprio quando è tramonto barra sera, esattamente sotto la aerea di foresta frignante, vi trovate davanti il camion nel riavvio, come vedete lucciole, e la mission è completata, per scendere a questo posto potete completarla in due missioni in due volte diciamo, scusate largate, c'è anche un altro posto che si trova più o meno qui, io ho preferito farlo due volte allo stesso posto però anche perché il tempo che comunque voi prendete lucciole di là, che sono tre alla volta diciamo, è andata dall'altra base ci sarà comunque qualcuno altro che l'ha già presa, quindi va un po' a preferenza questo è tutto, vaga vaga